20 minuti di ginnastica abbassano l'infiammazione. L'infiammazione è legata all'insorgenza di molte malattie, dal diabete, all'artrete, passando per la fibromialgia e la malattia di Crohn fino ai tumori. Ridurla è fondamentale per stare meglio, sono ormai innumerevoli gli studi sugli effetti dell'attività fisica sulla nostra salute. Ora una nuova ricerca, condotta dalla University of California San Diego School of Medicine, pubblicata sulla rivista scientifica scientifica Brain, Beavio Ren Immuniti, ha dimostrato che una sessione da 20 minuti di attività fisica rinforza il nostro sistema immunitario. I ricercatori americani in particolare hanno evidenziato come l'esercizio fisico sia in grado di far aumentare la risposta antinfiammatoria del nostro corpo, attivando il sistema nervoso simpatico. Cos'è il sistema nervoso simpatico? Il sistema nervoso autonomo è quello che regola tutte le attività dei nostri organi che non sono comandate direttamente dalla nostra volontà. Questo sistema è diviso in due. Il sistema simpatico interviene nelle situazioni di emergenza, mentre il sistema parasimpatico agisce nei momenti di relax. Il sistema simpatico è capace di aumentare il battito cardiaco, la pressione arteriosa e il nostro respiro. L'attività fisica aiuta questo sistema a lavorare in modo corretto per mantenerci in salute. Mentre facciamo sport, infatti, il corpo rilascia ormoni come l'adrenalina e l'anoredrenalina, che sono in grado di attivare i recettori adrenergici. Cosa sono i recettori adrenergici? Il sistema nervoso autonomo ha una rete di nervi che può innescare difese istintive immediate che ci proteggono in caso di pericolo. Una di queste difese è quella per cui, quando siamo colti da uno spavento improvviso, sentiamo un flusso di energia percorrerci tutto il corpo. Questa viene chiamata risposta attacco o fuga, il corpo mette a disposizione tutte le sue risorse per combattere o per scappare da un pericolo. L'adrenalina è il messaggero che dice al nostro corpo di prepararsi ad affrontare un pericolo. Quando un recettore adrenergico è stimolato dall'adrenalina, trasmette il segnale. I ricercatori californiani hanno voluto indagare se una sessione di ginnastica di 20 minuti sia sufficiente a stimolare la risposta del sistema nervoso simpatico sui monociti e sulle citochine. Cosa sono monociti e citochine? I monociti sono un tipo di globuli bianchi che vengono prodotti nel midollo osseo. Costituiscono tra il 2% e il 10% dei leucociti e sono in assoluto le cellule del sistema immunitario di dimensioni più grandi, che aiutano a combattere contro batteri e infezioni. Le citochine sono invece un tipo di proteine che aiutano altre cellule a eliminare tra l'altro le cellule tumorali. Alcune di queste citochine provocano l'infiammazione, che è necessaria nella risposta immunitaria del nostro corpo, ma se l'infiammazione è eccessiva, può contribuire allo sviluppo di molte malattie come il diabete, l'obesità, la celiachia, l'artrite, la fibromialgia, la malattia di Crohn. 20 minuti fanno abbassare l'infiammazione del 5%. Per raggiungere loro risultati ricercatori hanno chiesto a 47 volontari di camminare su un tapis rollante per 20 minuti a intensità diverse a secondo del loro livello di allenamento. A tutti i partecipanti veniva prelevato un campione di sangue prima dell'esperimento e subito dopo. I risultati hanno dimostrato che 20 minuti di esercizio fisico moderato hanno effetti antinfiammatori, facendo scendere del 5% le cellule che producono infiammazione. Fondamentale per chi ha difficoltà a muoversi. La nostra ricerca dimostra che una sessione di ginnastica non deve per forza essere intensa per avere effetti antinfiammatori, spiega Su Ziong, principale autore dello studio, 20 minuti o mezz'oretta di esercizio moderato, come ad esempio camminare a ritmo sostenuto, è sufficiente. E questo è molto importante, perché spesso, soprattutto le persone che soffrono ad esempio di artrite, non riescono ad affrontare sessioni ad alto impatto, mentre una camminata a passo veloce basta per abbassare l'infiammazione del loro corpo.